in questa sera io desidero subito passare alla parola del signore daremo spazio poi alla preghiera i canti per un momento di comunione profonda con con dio vi lascio una breve riflessione per accostarci al signore e considerare uno dei tanti aspetti che la cena del signore ci ricorda e prenderò spunto da un brano tratto dal libro di josue al capitolo 3 leggeremo i primi cinque versi poi faremo un po riferimento alla vicenda narrata in questi capitoli perché perché qui c'è un passo in cui non solo josue ma anche mosè prima di di lui in cui c'è un invito da parte di dio a santificarsi in funzione di qualcosa che dio avrebbe operato il giorno dopo in mezzo a loro e traremo degli insegnamenti preziosi per ciascuno di noi leggiamo dunque da josue al capitolo 3 i primi cinque versi giosue 3 dal verso primo al verso 5 giosue si alzò la mattina di buon ora e con tutti i figli di israele partì da sittim essi arrivarono al giordano e là si fermarono prima di passarlo trascorsi tre giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo quando vedrete l'arca del patto dell'eterno vostro dio portata dai sacerdoti levitici partirete dal luogo dove vi siete accampati e la seguirete però tra voi e l'arca vi sarà la distanza di circa duemila cubiti non vi avvicinate a esse affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare poiché non siete ancora mai passati per questa via josue disse al popolo santificatevi poiché domani l'eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi il giorno dopo il popolo seguì l'arca condotta dai sacerdoti e appena i sacerdoti si fermarono nelle acque del giordano e misero i piedi nelle acque del giordano le acque del giordano cominciarono a formare una sorta di grande mucchio e smisero di scorrere verso il mar morto accumulandosi per una grande distanza e il popolo poteva passare all'asciutto tutto il popolo passò secondo lo schieramento e l'ordine e poi infine quando i sacerdoti uscirono dal letto del giordano le acque tornarono a scorrere ma prima prima che i sacerdoti uscissero dal letto del giordano per far riprendere alle acque il loro scorrere 12 uomini uno per ogni tribù prese una pietra dal letto del giordano e vi costruirono presso gilgal un monumento a memoria di quanto era accaduto affinché i figli di israele vedendo quelle 12 pietre erette chiedessero come mai ci sono quelle pietre e il popolo potesse rispondere a causa della meraviglia che dio compì quando fermò le acque del giordano il giorno che il popolo entrò nella terra promessa ora l'ordine è perentorio santificatevi e è qualcosa che ricorre già mosè in altre occasioni aveva detto al popolo la stessa cosa per ordine e comandamento di dio santificatevi ora la santificazione è una un aspetto della vita cristiana che deve essere sempre presente in noi sempre perché è il cuore del problema cosa accadde all'umanità che la portò a quel disastro che è la vita che oggi noi viviamo ma fu proprio il peccato era il peccato la fonte di ogni nostro male perché perché il peccato allontana dio da noi perché egli è santo e quindi non può avere nulla a che fare con il peccato e coloro che vogliono accostarsi a dio devono santificarsi ora cerchiamo di entrare un po in quella che è semplicemente il significato del termine santificazione poi lo applicheremo alla nostra vita la parola di dio dice siate santi perché il vostro dio è santo e dio è santo perché è separato da tutto ciò che è male tutto ciò che è peccato egli non ha alcuna comunione con il peccato egli quindi quando dice di se stesso io sono santo intende proprio questo egli è separato da tutto ciò che è peccato gesù disse riguardo al diavolo egli viene ma non trova niente in me che possa appartenere a lui c'è una separazione perfetta come la luce dalle tenebre notate non possono convivere luce e tenebre se ci sono le tenebre vuol dire che non c'è luce se c'è la luce le tenebre sicuramente non ci sono e dio è separato dal male e poiché è separato dal male chi si vuole unire a lui godere della sua benedizione necessariamente deve separarsi dal male e oltre a questo la santità di dio parla di purezza e gli è puro in ogni suo aspetto e anche noi siamo chiamati alla purificazione perché siamo chiamati a somigliare al nostro dio ora c'è un aspetto però che noi dobbiamo considerare e che dà vigore e forza a queste due richieste che la santità separazione e purificazione perché la il termine santificazione ha anche un altro significato che vale per noi che è appartato per che è consacrato dedicato e io e te se vogliamo vivere la santificazione la purezza la separazione da ciò che ci distoglie e inquina mente e cuore abbiamo bisogno di consacrarci ora vedete non si può praticare non si può vivere la santità senza consacrazione è una follia credetemi è una follia è una battaglia persa da principio perché tu la forza è il mezzo per santificarti la trovi solo in dio non la trovi nelle tue forze non le trovi nel tuo cuore ciò che è macchiato non può pulire come fai tu con le mani sporche annettare il tuo vestito c'è bisogno di una fonte ed è per questo che noi stiamo ricordando il pane e il vino quella fonte che santifica quella fonte che purifica ma quella fonte che ci chiama anche a separarci e a rimanere uniti a lui infatti la parola di dio parla chiaro chi non dimora in me non potrà mai portare frutto e stiamo parlando del frutto dello spirito santo il frutto della santità ed ecco che il credente decide a un certo punto stressato oppresso o schiacciato dalla vita ad ogni giorno di condurre la sua esistenza mettendo un attimo da parte quella che è la sua devozione personale la sua preghiera la sua immersione nella parola di dio e lo vedrete subito il declino a occhio proprio si vede nel volto è per questo che per noi per noi è importante considerare questo perché la santificazione è l'aspetto più importante per chi vuole vedere la gloria di dio ora se io vi chiedessi chi vuole vedere la gloria di dio alzi la mano a stento una mano rimarrebbe abbassata ma se io vi dicessi chi vuole vedere la gloria di dio d'ora in poi da oggi da questo momento da prima di accostarsi cominciamo a santificarci a purificarci a distaccarci da tutto ciò che ci inquina a consacrarci a prezzo del tempo a prezzo d'ogni sacrificio forse la mano esiterebbe un po' ad alzarsi ma io vi dico che come per le grandi conquiste ci sono stati grandi sforzi grandi investimenti grandi impegni se vogliamo vedere la gloria di dio in mezzo a noi dobbiamo imparare a offrire interamente noi stessi ora fratelli considerate questo consideriamolo assieme attentamente che ogni qualvolta dio vuole manifestare la sua gloria l'antico testamento in questo è un insegnamento straordinario se volete comprendere appieno la santità di dio immergetevi nella nell'antico testamento perché è una fonte straordinaria e voi ricorderete senz'altro la vicenda di balac e balam balac re dei moabiti vede avanzare questo popolo numeroso trema sentendo tutto quello che dio ha fatto in loro favore e e non sa che cosa fare ha paura e e quindi che gli viene in mente c'è un certo balam che è un personaggio a dire poco strano che difficilmente riusciamo a collocarlo chiaramente nella realtà ma sta di fatto che quest'uomo aveva comunione con dio in qualche modo e quindi balac che cosa pensa lo chiama e gli dice mentre questo popolo passa tu sali su un'altura e maledicilo così con la tua maledizione e perdendo la benedizione di dio sarà perso ma balam che conosceva dio anche se non profondamente gli dice guarda che io dirò quello che dio mi dirà non sperare che io dica qualcosa che sia contrario al volere di dio perché io non posso e sta di fatto che dio anziché permettere a balam di maledire il popolo gli dirà più volte di benedirlo e alla fine balac una due tre quattro volte alla fine balac perde la pazienza e dice vabbè ma non me lo vuoi maledire ma almeno non benedirlo no dice io ti ho detto che dirò solo quello che dio dirà ma balam balam era un uomo che amava il danaro e siccome balac gli aveva promesso grandi quantità d'oro diciamo che gli era rimasto l'amaro in bocca a balam potevo guadagnare tanto di quell'oro e allora siccome conosceva dio trova la soluzione chiama balac gli dice guarda io non lo posso maledire ma io conosco un modo perché questo popolo perda la sua benedizione fai una cosa prendi delle donne moabite e portale in mezzo al campo e di loro di offrire i loro corpi ai agli israeliti e si fornicheranno peccheranno dinanzi a dio si prostreranno dinanzi agli idoli di moab e dio per questo ritrarrà la sua benedizione e li colpirà e così avvenne bal peor così avvenne le donne scesero gli uomini caddero nella trappola e e lì caddero migliaia di israeliti colpiti dal giudizio di dio perché vi ho raccontato questa storia perché ciò che separa l'uomo dalla benedizione di dio è il peccato e se il sangue di gesù ci ha riscattati dalla condanna del peccato è altresì vero però che se io e te vogliamo vedere la gloria di dio discendere su noi noi abbiamo bisogno di santificarci fratelli ve l'ho già detto tante volte insegnandovi a questo riguardo se la gloria di dio manca nella chiesa se la gloria di dio manca nella tua vita personale è perché manca l'obbedienza e perché c'è del peccato e noi abbiamo bisogno di un continuo ravvedimento di un continuo ricercare nella separazione nella purificazione nella consacrazione un nuovo lavacro per poterci presentare dinanzi a dio come uomini pronti a ricevere la sua benedizione un giorno dio disse se io scendessi oggi in mezzo al popolo lo distruggerei a causa del suo peccato e per quello si ritrasse e il popolo di israele il popolo di giuda sono un continuo insegnamento di questo alti e bassi alti e bassi alti e bassi il peccato aumentava e dio si ritirava essi si ravvedevano e dio ritornava e poi avanti e indietro se volete vedere questa situazione leggete ad esempio il libro dei giudici e ve ne renderete subito conto e allora qual è il punto ma il punto fratelli è che Gesù Cristo il pane e il vino ci chiamano con una forza irresistibile alla santificazione e sì fratelli perché perché qui sono rappresentati i simboli di quella sofferenza di quel corpo spezzato di quel sangue versato che che dio ha offerto per la tua purificazione per il tuo perdono ora se il prezzo del nostro perdono è stato pagato a così alto prezzo a così alto costo come potremmo noi continuare a vivere in una condizione anche se agli occhi di chi ci circonda può sembrare piccola una condizione che dispiace al signore fratelli c'è un aspetto in questa storia che abbiamo letto ed è questo monumento di 12 pietre eretto a Gilgal ed è importante perché immaginate le generazioni successive a questa storia che non avevano sentito niente che non avevano vissuto niente di quello che era stato il miracolo dell'uscita dall'Egitto o la gloria della provvidenza lungo il deserto né avevano assistito alle acque del Giordano che si fermano e si ammucchiano chiedere ma che significano e il padre gli racconta quello che è avvenuto davvero Dio ha compiuto queste meraviglie è così potente il nostro Dio è così glorioso il nostro Dio è capace di opere tanto straordinarie il nostro Dio ma io io voglio vivere queste stesse esperienze o tutto ciò che ho sulla faccia della terra non può in alcun modo essere paragonato alla manifestazione di un Dio glorioso che discende ed abita in mezzo al suo popolo se vogliamo che domani le generazioni future se ce ne saranno ancora riguardino a noi dicendo ma davvero in quei giorni Dio ha fatto tante meraviglie così come noi riguardiamo ai tempi passati ai risvegli alla gloria che Dio ha manifestato in passato nella parola di Dio ma anche nella storia con i gloriosi e potenti risvegli se vogliamo che che la gloria di Dio si manifesti in mezzo a noi allora dobbiamo santificarci dobbiamo imparare a pagare il prezzo della consacrazione dobbiamo imparare la purificazione non possiamo come Giacobbe zoppicare dai due lati ora di qua ora di là sempre in bilico tra è lecito sì abbastanza ma non troppo non possiamo non compiere una scelta determinata e decisa se vogliamo vedere la gloria di Dio gloria che ancora riposa su quanti si dispongono a cercarla con cuore puro separato e consacrato se la vogliamo vedere allora dobbiamo imparare a dedicarci a dedicarci anzitutto nel dimorare in Dio perché il frutto della santità noi la otteniamo dimorando in Dio e separandoci e purificandoci da tutto ciò che inquina fratelli è giunto il tempo in cui la chiesa deve armarsi della gloria di Dio in cui la chiesa non può far fronte ai tempi che schiacciano forte noi abbiamo bisogno della sua gloria discutevo oggi con un fratello che disorientato considerava la legge di una nazione che è sempre stata considerata tra le più avanzate democratiche liberali che ha approvato una legge per impedire ai credenti di predicare l'Evangelo fuori dalle chiese è incredibile nazioni che sono cresciute nella cultura cristiana oggi negano le loro stesse radici e si oppongono al messaggio dell'Evangelo questi sono gli ultimi tempi fratelli come li vuoi affrontare io ho bisogno della gloria di Dio io ho bisogno della manifestazione della gloria di Dio e se la vogliamo veramente la dobbiamo cercare nella santificazione ciascuno dal canto proprio santificarsi per trovare la benedizione di Dio ora fratelli alcuni potrebbero contestare questa mia predica avanzando una grazia immensa che ha acquistato tutto per noi fratelli siamo nella grazia e la grazia di Dio salvifica e apparsa e ci spinge a rinunciare ad ogni impietà perché l'obiettivo della grazia non è giustificare il peccato ma purificarci e darci le forze per liberarci interamente dal peccato e Dio correggerà sempre privando la chiesa della sua presenza ogni qual volta la chiesa si comprometterà con il peccato leggiamo le lettere dell'apocalisse ravvediti altrimenti rimuoverò il candelabro da te la mia presenza da te ma la gloria di Dio che oggi noi proclamiamo e che per mezzo di quel sangue di quel corpo affisso a quella croce Cristo ha aperto una porta perché io e te potessimo rivestiti della sua giustizia trovare nel suo spirito la forza per vivere controcorrente per poter trovare la forza di combattere anche contro la nostra carne contro il peccato che ancora dimora in noi per trovare in noi le virtù di Cristo formate dallo spirito di Dio questa è la grazia che noi proclamiamo e noi dobbiamo vivere all'ombra di quella croce contemplando quel sacrificio e riconoscendo che quel sacrificio chiama santità poiché senza santificazione nessuno vedrà Dio né domani né oggi e allora fratelli facciamo una scelta coraggiosa se vogliamo vedere domani la gloria di Dio scendere oggi facciamo una scelta coraggiosa prendiamo la nostra vita e pieghiamola ai piedi del Signore imploriamolo di aprirci gli occhi nel vedere ciò che forse ancora noi non vediamo in noi stessi ma facciamo sul serio dimoriamo alla Sua presenza amiamo la Sua parola chiediamo la grazia a Dio di aprirci la mente per comprenderla e poi per viverla per assaporarla per amarla apriamoci offriamoci come un sacrificio vivente ogni giorno alla Sua presenza e allora e allora in questo luogo sarà eretto un altare a memoria un monumento a memoria di ciò che Dio avrà fatto perché degli uomini delle donne di Dio hanno messo da parte ogni cosa per cercare il volto del Signore nella santità nella purezza nella consacrazione nella separazione da tutto ciò che Lui inquinava e allora fratelli ora che ci accosteremo a questa cena del Signore ricordiamo attentamente questo questo sacrificio Dio l'ha permesso l'ha voluto l'ha offerto per purificarsi un popolo e santificarlo quando ci accostiamo riconosciamo che questa è la nostra vocazione che questo è quello che Dio richiede a quanti si accostano a Lui e quanti faranno sul serio in questa vocazione della santità quanti si disporranno a cercare Dio con il cuore vedranno la gloria di Dio manifestata su di loro chiniamo il capo in preghiera di Dio di Dio Grazie a tutti.